Ok passiamo al combattimento ufficiale contro l'abbate di Stirling Allora ragazzi partite in pausa In pausa Mappa molto piccola L'abbate se lo conoscete attacca soltanto con i suoi sacerdoti O comunque i sacerdoti armati di bastone Sì in Crusader c'erano le schermaglie quindi dicevano che potevamo usare il mod per fare schermaglie su Crusader Allora e dicevo ragazzi come vedete controlla praticamente l'intera mappa Noi siamo arrivati con il nostro umile castellino Sì Stronghold HD ragazzi è soltanto la campagna principale poi non c'è niente Ok ragazzi andiamo a pianificare la nostra partita Allora lo scontro ragazzi deve muoversi in maniera netta Nel senso che dobbiamo in un certo senso recuperare il prima possibile questi territori Comunque liberare queste due torri E prendere almeno queste miniere qua su Qua su Qua su come sto parlando oggi Queste miniere ragazzi di pietra per avere la nostra pietra La mappa realmente è questa Il gioco però mi dà la posizione questa Va bene va bene Almeno così il castello del nemico ce l'abbiamo davanti Ok Si inizia ragazzi Potete contare su di noi Cosa volete? Vado Siamo sotto attacco Qui non è possibile mio signore Già ci stanno attaccando ragazzi Dovremmo produrre molti archi ragazzi Sempre pronto Ci muoviamo Ovviamente attaccano subito il granaio Non possiamo fare il mercato ragazzi Quindi non possiamo vendere le risorse Vedo un altro buco nella tua armatura Sì 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 Dai veloci Minta a me mi dà fastidio Che gli arcii sono dicappati proprio Mamma mia Che cazzo Mi attaccano i civili Invece di attaccare Ok raga Tutto il nostro castello è questo qui Non ci deve essere altro Io quello che posso fare al massimo È costruirmi Eh ma Sarà una tortura ragazzi Recuperare un minimo Sempre pronto Buonasera Benbe Perché non attacchi frontalmente le torri Hai comunque numeri Dalla tua Cosa ci aspetta? Frontalmente Con Proprio A romperle Adesso un problema Diteci cosa fare Cosa è difficile Ci muoviamo Che i langeri Muoiono Alle prime frecce Guarda E poi Ah no Pure questo Cosa Potete contare Solo di noi Dove andiamo? Il nemico È tornato ad attaccare Di nuovo Facile In attesa di un Siamo altre reclute Sire Sempre pronto Sarà una passata Cosa ci aspetta? Il legname Non basta Sire Non basta mai Sto gioco Abbiamo perso Molto male In attesa di ordine Anche attaccando frontalmente Non posso entrare nella torre No no Lo sai perché? La torre non ha le scale In Stronghold Le torri Per essere scalate Hanno bisogno delle scale Queste torri Sono costruite Proprio per lo scenario Hanno costruito la torre Gli hanno messo sopra gli arcieri Con E hanno tolto la scavata Praticamente questi sono morti ridendo Cioè non possono uscire Il giocatore non può Portarli fuori Partita in corso Sì? Immediatamente Diteci cosa fare Riproviamoci ragazzi Subito Taglia legna Uno qui Uno là Facciamo subito Il capanno degli arcieri Il capanno degli arcieri Il capanno degli arcieri Il capanno degli arcieri Cacciatore muore E' utile farlo Direi di puntare tutto Stavolta Stiamo qui ragazzi Dipendiamoci Vediamo se arrivano gli arci Che non posso acquistare Né niente Nessun problema Il fatto è che loro attaccano Stanno carando Il granaio ragazzi Potete contare Su di noi Come vede ragazzi Non c'è legname Non posso costruire Il meleto Quindi non abbiamo Risorse No no Ma che quale Arcieri pronti Allora Non mi conoscete Ragazzi Nicro non usa Trucchi Torri ragazzi Iniziamo a fare Le nostre torri Dopo questo Resterà incompleto Perché non mi basta La pietra Per completare L'ultimo gradino Maledizione Usano il potere Ah ok Scusami Io avevo letto Usa Il mio arco È vostro Ok Sta arrivando Un po' di legname Almeno devo fare Un meleto Ragazzi Almeno uno Pazienza Farne due Ma mi servono Vabbè Già mi sta lanciando Le catapulte Quindi Ma che bello Serve della pietra Mio signore In certo senso Vabbè Ragazzi È tosta Tosta Questa Veramente Realmente Ora il nemico Inizierà O buttarla giù O saliranno Le scale Invece No Sempre pronto Facile Dai In attesa Di ordini Diteci cosa fare Sarà una passeggiata Adesso ragazzi Provo Sei il secondo signore Più potente Ok Hanno avuto Zuggio la torre E sta iniziando Ad attaccare l'altra Allora Con loro Devo fare Spazio Per fare Una mia Struttura E il legname Non basta Sire Maledizione Pensavo Chiedere Un vostro Comando Un messaggio Dall'abate Vedo un altro Buco Nella tua Armatura Nessun problema Qui è libera Questa torre Glielo libera Dove andiamo Facile Sempre pronto Cosa ci asserà Piuttosto difficile Andiamo Superiamo sta pietra Non c'è legname Il granaio è andato Giù La tua popolarità Sta calando Grazie ragazzi Grazie 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 Abbiamo completato 100% Quale abbiamo Completato Ragazzi Allora Raccolta Regalo Un VIP Sfida Terminata Perfetto Ragazzi Quindi Regaleremo Due VIP Ai membri Della live Adesso E Abbiamo completato Pure l'altra Ragazzi Che io Non posso Uscire Dalla schermata Che altrimenti Sto gioco Si bug Quindi Regalo Un VIP Ci saranno Due VIP Ragazzi Chi ha Contribuito Ragazzi Allora Benben Abilita Devasto Fanrage Con un totale Di 8000 Necronium E che Ho contribuito Con 4060 La raccolta Regalo VIP Quindi Bravi Ragazzi Bravi Bravi Allora Quelli che Hanno contribuito Di più Ragazzi A quella Challenge Meriterebbero Di prendere Il VIP Quindi Due di voi Prenderanno Il VIP Esatto Esatto Quest'oggi Dei membri Che ci sono In questo momento In live Quindi Sicuramente Checco Benbenger Ce l'ha E a sto punto L'altro VIP Se lo becca Utente Nuovo Ok ragazzi Complementi Siete divinitati In VIP Adesso Noi Non dobbiamo Morire Partita Iniziamo Sotto attacco Abbiamo Nobino Servono Altre Reclude Sire Cosa fare Non farci Distruggere Il castello Servono Altre Reclude Sire Sì Ci muoviamo Fortunatamente Le scorte Le scorte di cibo Stanno calando Mio Sire Cioè Posso fare pure I lanceri Ma In attesa di ordini Servono altre reclute Sire Il mio arco è vostro Immediatamente Gli arcieri sono I no plus ultra Di Strom In attesa di ordini Servono altre reclute Servono tanti Grazie a loro Ti difendi Dagli attacchi Dei nemici Soprattutto Quando la tua alternativa Sono I lanceri Servono più armi Sire Sui lanceri Cioè Non è che i lanceri Ti danno tutto Questo benessere Mio signore Vado Cosa volete In attesa di ordini Le catapulte Cazzo Le catapulte Che si arriva La legname Finalmente Siamo sotto attacco Vorrei iniziare A recuperarmi Un bel po' di pietra Però pure Le balestre Non scherzano I stronghold I balestre Vabbè Sono i più forti E infatti Sono quelli Che fanno il culo A tutti E hanno A differenza Della realtà Anche una maggiore Gettata Quindi È un po' Triste Che avere una maggiore Gettata Ti garantisce Un bel risultato Ok Stiamo ripulendo L'aria Pian pianino Mi sa Che Aver esistito Più ondate Mi garantisce Un certo risultato Anche se Anche se Se non liberiamo Sta torre Ragazzi Non possiamo Recuperare La legna Ok Quindi facciamo così Con loro Anzi Arcieri pronti Non sto mandando più uomini Ok andiamo qui Ci muoviamo Il mio arco è vostro E si va a recuperare Sta torre Ragazzi Poi hanno loro pure Le frecce infuocate Mio signore Cosa volete Immediatamente Guardate quanta gente Cade ragazzi Sì mio signore Eh se si sbigassero Ammazzarli In attesa di ordini Puntare Sì Prendere la mira Arcieri pronti Il mio arco è vostro Precce pronte Mio signore Pronti a tirare In attesa di ordini Servono altre reclute sire Ok Ora comandiamo noi ragazzi Almeno in quest'area Adesso mi serve il legname E il legname non basta Porco Porco cammello Con loro Distruggiamo le miniere Andiamo io a distruggere le miniere Giù bastardo Eh attacca Non attacca Non attacca Non attacca Non attacca Non attacca Non attacca Andiamo a casa In attesa di ordini Ci muoviamo Sì? Un messaggio dalla bate Vedo un altro buco Nella tua armatura Vabbè fatti forte Mi sta per distruggere la caserma E lì so cazzi Ragazzi Rafforziamola con un filo di mura Così Che mi si butta di terra La caserma E finita Chiedendo Come cazzo Le regole Gli uomini Non si va più avanti Così Cibo c'è Le scorte di cibo Stanno calando Mio sire Vabbè Vabbè Non mi interessa Per adesso C'è la legname Le scorte di legname Scarseggiano Ma porca mitè Ok È il momento di acquisire territorio Onestamente Col cibo Vorrei prendere qualcosina Che qua Sto bastardo Ho capito Che mi manda le catapulte E mi distrugge tutto Dove andiamo? Forse è meglio Recuperare Questa Cava di pietra Invece di questa E qua Le catapulte Sono una rottura di palle Vedete ragazzi In attesa di orgini Servono altre reclute Sire Arciari pronti Cosa ci aspetta? Nessun problema Me l'ha buttato Ugualmente a terra Diteci cosa fare Andiamo Ed io che pensavo Che era una volta buona Fammi subito Una cava di pietra Qua Qua Questa Potete contare Su di noi Sarà una passeggiata Dove andiamo? L'armeria è stracolma Mio signore Sì Mio signore Adesso Mi manda a puttare Nell'economia Ragazzi Perché Giustamente Non ho la possibilità Di fare altri Arcieri Il mio arco È vostro Il bastardo Sta arrivando Ci muoviamo E cazzo ragazzi Questo è difficile È difficile Siamo sotto attacco Il bastardo Mi ha ammazzato uno Ciao 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 Ciao